Buonasera a tutti, benvenuti, il benvenuto con il padrone di casa lo ha fatto Stefano Nobbi, presidente provinciale, io sono Giuseppe Sludrone, presidente regionale FIAIP Lazio, in sala non vedo ma ci sono tutti i nostri associati del Lazio, ovviamente ringrazio i miei presidenti provinciali che sono in sala, quindi un applauso magari per loro che non sono qui sul palco con me, i lavori inizieranno domani, oggi è la festa in quarantennale di FIAIP, 40 anni di storia, 40 anni che hanno visto la FIAIP oggi, quello che è riuscita a fare, ringrazio ovviamente il presidente nazionale che ha fatto per la FIAIP quello che sta facendo e quello che continuerà a fare, mi auguro, quindi un grande augurio a tutti, la FIAIP c'è, è forte e lo stiamo dimostrando, un augurio a tutti, buon quarantennale della FIAIP, della federazione, a questo punto mi sembra d'obbligo lanciare l'inno nazionale d'Italia, grazie a tutti e benvenuti.